S'è tenuta mercoledì scorso la prima delle quattro giornate di lavori ed iniziative organizzate a spello dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paisaggisti e Conservatori della provincia di Perugia per celebrare il centenario della Fondazione degli Ordini Italiani in concomitanza con le giornate di Open Studi Aperti. Si è fatto il punto sulla ricostruzione di tutte le volumetrie della Basilica di San Benedetto di Norcia con la conferma di una fase ormai avanzata dei lavori, come spiegato dall'architetto Carlo Blasi, progettista dei lavori della Basilica di Norcia e della Cattedrale di Notre Dame di Parigi. Stiamo terminando la prima fase di ricostruzione che è quella della ricostruzione di tutte le volumetrie, compreso il tetto, siamo a ricostruire il tetto, quindi siamo in una fase avanzata della ricostruzione. Poi ci sarà, per quello che ne so, a breve l'appalto per la seconda fase che riguarda essenzialmente il restauro delle parti decorative e la ricostruzione degli altari distrutti, quindi i tempi non dovrebbero essere molto lunghi, non so esattamente, forse Ingegneri Annelli, che il RUP potrà essere più preciso di me, ma devo dire che noi siamo molto soddisfatti e credo che anche il Ministero sia molto soddisfatto di come stanno andando avanti i lavori.